Il mondo è cambiato. Fuoco! Mia regina. I trivanti Anora possono distruggere intere città. Tutto il regno di Paia sarà nostro. Possediamo la più grande arma che questo mondo abbia mai conosciuto. Nessuna religione li fermerà. La guerra è una soluzione elegante. Sono la vostra regina! Mia sorella ti ha dato la caccia per 17 anni e non si fermerà adesso. Morirò prima di permettere che accada qualcosa a te o ai nostri figli. Non ho mai combattuto per la mia corona. Adesso quella corona sarà forgiata dalle ardenti fiamme della guerra. Io sarò una regina rinata. In cuor tuoi sai già cosa bisogna fare. Colpisci ancora. Questo momento... Forse è quello per cui siete venuti al mondo. Forse è quello per cui siete venuti al mondo.